E di almeno otto morti e diverse dozzine di feriti, il bilancio di un attentato avvenuto nella città afghana di Jalalabad, nella parte orientale del paese, al confine con le aree tribali del Pakistan. Le vittime sono state raggiunte dall'esplosione di due missili, mentre assistevano a un incontro di cricket in uno stadio cittadino. L'attentato non è ancora stato rivendicato e non è detto che rientri nella tradizionale offensiva di primavera di Taliban, iniziato ufficialmente la scorsa settimana con l'assalto a un edificio governativo avvenuto ancora nella città di Jalalabad. Nella stessa provincia, quella del Nangar, infatti, va crescendo anche l'attività di gruppi legati allo stato islamico che agiscono in diretta competizione con i Taliban.